La modella italo-americana Soleil Sorge ha messo mi piace ad un commento contro il suo ex fidanzato Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato a Luca Onestini, cioè al secondo classificato del grande fratello Vip2 Per chi non lo sapesse, sabato 9 dicembre i finalisti e il vincitore di questo programma televisivo sono stati intervistati nella trasmissione Verissimo Durante questa occasione l'ex tronista di Uomini e Donne, ovvero Luca Onestini ha criticato la sua ex fidanzata Soleil Sorge A quanto pare, a quest'ultima non sono piaciute le dichiarazioni del bolognese, perché nelle ultime ore ha fatto un gesto sui social network, che non è passato inosservato ai suoi numerosi fan Luca Onestini parla della sua ex fidanzata Soleil Averissimo Luca Onestini, dopo aver terminato la sua esperienza a GFD E' stato ospitato nel salotto televisivo di Silvia Toffanin Inizialmente il bolognese ha raccontato il suo percorso nella casa di Cinecittà, dopodiché ha rivelato di non sentire assolutamente la necessità di chiarire con la sua ex fidanzata Perché sa già tutto, e soprattutto ha aggiunto queste seguenti parole Credo che Soleil abbia aspettato che io entrassi al GFD per lasciarmi avere così massima visibilità Sempre nel corso dell'intervista, Luca ha raccontato che nelle reality show ha voltato pagina, soprattutto grazie a Raffaello Tonone Infine Luca ha dichiarato che quando stava con la sua ex fidanzata non è incontrato Giulia Latini per rispetto di Soleil Per chi non lo sapesse quest'ultima dopo un paio di settimane dall'inizio del GFB, ha lasciato il suo fidanzato Luca Onestini attraverso una lettera, dopodiché ha iniziato una relazione sentimentale con l'imprenditore milanese Marco Cartesegna Soleil Sorge è arrabbiata con Luca Onestini, come vi abbiamo appena raccontato alcuni giorni fa, Luca Onestini ha detto cosa pensa della sua ex fidanzata? A tal proposito vi riveliamo che Soleil Sorge ha manifestato il suo disappunto verso il bolognese, perché ha messo mi piace su Instagram a questo seguente commento scritto da una ragazza Sei più falso dei soldi del monopoli, dovresti imparare un po' di educazione e il rispetto per le donne, dovresti prendere lezioni da Francesco Monte, perché lui non ha mai usato parole offensive per Cecilia Caffone ignorante, avete capito perfettamente anche se Soleil non ha rilasciato nuove rivelazioni nei confronti di Luca Onestini, con un semplice clic ha dimostrato di essere d'accordo con l'autrice del messaggio contro il suo ex fidanzato Per leggere altre notizie sugli ex concorrenti del GFB, vi basterà cliccare sul pulsante Segui, posto nella parte alta di questo articolo Per leggere altre notizie sugli ex concorrenti del GFB, vi basterà cliccare sul pulsante